ciao a tutti amici di vanilla oggi vi saluto da olimpia la città greca dove nel 776 avanti cristo venne completato il primo elenco di vincitori dei giochi olimpici quindi dietro vedete lo stadio e da dove da allora fino al 393 dopo cristo ogni quattro anni si svolgevano le competizioni sportive più famose della storia dal 1960 in poi da qui dall'archeolimpia parte il bracere con destinazione il sito delle moderne olimpiadi acceso da 11 attrici greche vestite come si presume fossero vestite le antiche sacerdotesse dei culti pagani vi ho portato qui per parlare del pancrazio un'antica arte marziale che nacque e divenne famosa proprio nell'antica grecia dimenticate il wrestling odierno dove gli incontri non sono altro che una forma di spettacolo e volendo dimenticate anche il pugilato sport antichissimo oggi disciplinato da rigide regole che prevedono una durata massima delle riprese colpi proibiti e fallosi e categorie di peso divisi in cui sono divisi gli atleti nell'antica grecia invece non si andava tanto per il sottile nella lotta nemmeno quando era praticata a livello sportivo tanto è vero che era molto apprezzato uno sport chiamato pancrazio pagration parola composta da due termini pan ovvero tutto e kratos cioè potenza l'atleta quindi doveva dimostrare la sua onnipotenza lottando con l'avversario senza esclusione di colpi a parte tre eccezioni era vietato mordere cavarsi gli occhi e colpire genitali prima di continuare con il racconto del pancrazio vorrei chiedere ai 5 6 spettatori su 10 ancora non iscritti di cliccare sul tasto iscriviti ed entrare con noi nell'arena dei giochi olimpici della divulgazione culturale grazie mille d'altronde almeno stando a quanto racconta la mitologia greca era stata la dea atena a insegnare la tecnica del pancrazio teseo che la usò prima contro il mostruoso minotauro e poi la diffuse tra i greci in alternativa il pancrazio potrebbe essere stato usato da eracle per uccidere il leone di nemea che insensibile ai colpi di frecce spada fu vinto a mani nude in ambe due i casi gli antichi eroi non potevano certo stare a pensare alle regole dei combattimenti il pancrazio era popolarissimo nell'antica grecia tanto da essere una specialità olimpica fin dalla 33esima edizione dei giochi nel 648 avanti cristo il pubblico impazziva per quei combattimenti cruenti che non prevedevano interruzioni nei limiti di tempo la lotta finiva solo con la resa di uno dei due atleti che alzava il dito l'indice il dito indice verso l'alto per dichiarare la propria sconfitta o in parecchi casi con la morte di chi rifiutava di cedere a controllare la regolarità del combattimento c'era un arbitro armato di una robusta canna usata per colpire l'atleta che non rispettava le poche norme imposte a rendere più pericolosa la lotta contribuiva anche la mancata divisione degli atleti secondo il peso come trassi comune negli sport da combattimento odierni calci pugni slogature strangolamento e altre tecniche di lotta rendevano dunque il pancrazio uno sport estremo un combattimento totale che si svolgeva sulla sabbia con gli atleti accuratamente unti di olio d'oliva per difendere la pelle da graffi e anche dal cocente solestivo decisi ad affrontare il rischio di morire per la grande fama che ne ricavavano per ottenere la prestigiosa corona di ulivo e anche per il denaro che riuscivano a guadagnare sarebbe un errore però pensare che quello economico fosse il motivo principale i giochi olimpici avevano grande importanza nella grecia antica tanto da interrompere le guerre in corso e ottenere una vittoria in quelle competizioni significava per gli atleti garantirsi in qualche modo l'immortalità anche grazie a statue a loro dedicate il grande artista lisippo fece una statua oggi perduta tra nel basamento di poli damante di scotussa che aveva vinto la gara di pancrazio nelle olimpiadi del 408 avanti cristo questo atleta ricordato per la sua enorme forza fisica è rimasto famoso nella storia per una sfida a cui lo invitò il re persiano dario secondo dopo aver udito delle sue gesta la leggenda racconta che poli damante lottò l'ultimo sangue secondo la volontà del re dario contro tre immortali i temibili guerrieri della guardia reale i primi due li uccise a mani nude e il terzo scappò per paura di fare la stessa fine l'episodo che sia reale o meno dimostra comunque che il pancrazio era una tecnica di lotta usata dai guerrieri greci una sorta di arma impropria apprezzata dagli opliti spartani e dalla falange macedone di alessandro magno ma anche dai soldati atenesi e a proposito degli spartani che sempre si distinguevano dagli altri occorre precisare che non praticavano il pancrazio come sport perché si rifiutavano di accettare quelle poche regole previste loro volevano essere liberi di mordere e di cavare gli occhi agli avversari difatti pare proprio che nella gloriosa battaglia delle termopili dopo aver perso le loro lance delle spade abbiano combattuto con le mani e con i denti scrive erodoto nelle sue storie a partire dal 200 avanti cristo fu introdotto nei giochi olimpici anche un pancrazio per ragazzi meno cruento che consentiva all'arbitro di interrompere il combattimento per evitare la morte di uno degli atleti la storia del pancrazio praticato e apprezzato anche dai romani si conclude nel 392 dopo cristo lo sport fu abolito come rito pagano da uno dei decreti di teodosio il sovrano che rese il cristianesimo la religione ufficiale dell'impero romano a far risorgere questo tipo di lotta non proprio come nell'antichità ci ha pensato nel 1969 un atleta greco statunitense jim arvanitis che ha cercato di rifarsi sempre alle fonti originali per riportare in vita il pancrazio ovviamente in forma moderna non è di secondaria importanza il fatto che il suo grande interesse per lo sport praticato nell'antica grecia anche se nato negli stati uniti arvanitis è fortemente legato alla sua cultura d'origine come tantissimi come lui si è nato per imparare a difendersi da episodi di bullismo subiti da bambino non per nulla la prima palestra che ha aperto nel 1971 si chiamava spartan academy questi invece erano alcuni bagni termali di olimpia e qui dice proprio che c'era il riscaldamento ipocausto infatti si vede qui il foro dove passava l'aria non avevo ancora visto un edificio a riscaldamento ipocausto e questo qua mi credo sia il primo io Grazie a tutti. Grazie a tutti.